Nel momento particolare che stiamo vivendo, ormai da un anno, in cui i femminisciti e le violenze contro le donne sono in aumento esponenziale, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Camaioli torna a sensibilizzare la cittadinanza e a dedicare alle donne, nel giorno dell'8 marzo, una poesia di Alda Merini, dal titolo Le donne. Ci sono donne e poi ci sono le donne donne e quelle non devi provare a capirle perché sarebbe una battaglia persa in partenza, le devi prendere e basta. Devi prenderle e baciarle e non devi dare loro il tempo di pensare, devi spazzare via con un abbraccio che toglie il fiato, quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto, a bassa, bassissima voce. Perché si vergognano delle proprie debolezze e dopo avertle raccontate si tormenteranno, in un'agonia lenta e silenziosa, al pensiero che, scoprendo il fianco e mostrando su mani fragili e bisognosi per un piccolo, fottutissimo attimo, vedranno le tue spalle voltarsi e di tue passi allontanarsi. Perciò prendile e amale, amale vestite, che a scogliarsi sono brave tutte, amale indifese e senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una donna possano trovare scudo dietro un velo di mascara. Amale addormentate, un po' ammaccate, quando il sonno le strupiccia, amale sapendo che non ne hanno bisogno, sanno bastare a se stesse, ma appunto per questo sapranno amare te come nessuna prima di loro.